Ottima partita, ma ottima partita di tutta la squadra. Abbiamo dimostrato dopo Pescara che era importante dimostrare che era stata solo una dei faianze. Penso che in queste due partite abbiamo fatto due ottime prestazioni. Due partite importanti con due squadre che come organico lottano per andare in Serie A. Dopo Pescara, dopo che prendi quattro gol, non è mai facile ripartire. Invece da squadra abbiamo dimostrato che il gruppo c'è. Adesso se siamo là davanti, un motivo c'è. La difesa è forte. Abbiamo quattro centrali di ottimo livello. Adesso purtroppo Massimo è infortunato, ma ad averne di centrali come questi. Si dice che le difese vincono i campionati. Io credo sia così. Se tieni dietro, poi davanti abbiamo dei giocatori di qualità che in ogni momento possono far gol. Stiamo dimostrando che quest'anno siamo veramente compatti. Ma come gruppo, a partire dagli attaccanti che ci danno una mano, subito appena parte l'azione, due mediani che fanno un lavoro veramente importante in mezzo al campo. Poi dietro ormai siamo collaudati. Credo che in queste partite, a parte Pescara, abbiamo dimostrato che la squadra c'è. Pescara è stata la prova che in B non puoi mai mollare. Non puoi mollare in ogni partita. Appena abbiamo mollato, a poco, abbiamo preso quattro gol. Quindi ogni partita bisogna andare in campo e lottare su ogni pallone. Perché poi quest'anno ce l'abbiamo. Abbiamo la grinta, abbiamo la voglia. E insomma, dobbiamo continuare così. Un campo diverso, un campo sintetico, piccolo. Poi anche un derby. Insomma, non sarà una partita facile. Però siamo una squadra forte e andiamo là per vincere. Grazie a tutti.